Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Per portarsi un microfono tipo di quelli appiccicati qui Buonasera, come va? Tutto bene? Tutto a posto? Tutto ok? E' un po' sdrenata ragazzi, non è niente di... Ah scusa, ragazzi scusatemi un attimo, questa è la situazione Minchia, vabbè oh dai allora ci sta, lo posso accettare Ma che schifo distanza è? Ma questa lucina? Ma sembra quella che ti porti appresso quando fai i giochi horror Ragazzi, ma voi state tipo condividendo delle cam... Bisogna sempre stare attenti Aspetta che devo vedere Nuova ci sta giocata, metto qua e via No, si sta a vedere tutto quello che non si deve vedere Oh no! Faccio vedere, faccio vedere Perché tira il filo? La faccio vedere al contrario Porca di quella troia Spettacolo, vedi che la luce l'ho incastrata dentro a un pannello di audio Geniale Ah Niccolò, ma vaffanculo che tu... Ah ragazzi, ma non scherzi Te laverai il cazzo quando devi scopà, buffone Sennò, porco Dio, sembra la palude di Shrek Ed è così che si vive, bravo Niccolò, bravo papà Samuele Roche Qui e qui da Dazzo Pa Dani Linares, 21 gol 21 gol Eccolo, questo è Dazzo Pa Artura 1,71 Se tu vuoi comprare in squadra Sono 86 milioni Eh tocca d'aglioli nel caso Ah è brutta Dani Linares E' il fenomeno fra te Con il numero 10 Con 10 Pensate stanno proprio così C'hanno pure due Due difensori argentini Giocano Martin Mantovani Che mi sa che era calciatore Guarda che Guarda che anche il tuo ex fidanzato È vero Io me ne vado ragazzi Però C'è qui È l'ex di entrambe Quindi Va bene ciccio L'hai uccisa L'hai completamente Però posso dire Ha solo risposto E a me la pete La scuola amare È giusto È giusto È vero È vero È vero I buy I buy I know that The draft It's actually There's only Francesco Totti But You know There are some days Where you can go For the draft And there are Some weeks To understand What kind of player You have to bring What does that even mean We are not In ritardo We are not late We are We were just waiting Who is Who's doing All the stuff To take Our players Now we have All the players At the moment I buy Pay attention Pay attention Però Sembrava fatta apposta Che l'hai detto tu adesso Perché lo stavo raccontando prima Ma non ero io comunque Quella persona No Parese che eri tu Sicuro Secondo me sì Che cazzo fai Non ero io Cosa vuoi Ok Ok Quindi Due Maurizzi E Mary Maurizio Quindi Lo Sturdivus Esce Ci sta Voglio Io Ferdinand Oh Rio Ma non si sente Giama Ma non è Rio Ferdinand Votto contro Denis Dosio Mi sa Jumpy Tech Ai limiti Dell'evoluto Io voto Jumpy Tech Tutti insieme a te Chissà come Io voto Dieguito Chi è che ha votato Jumpy Tech Scusa che cosa sta facendo Il gatto Io Che fa Ma che cazzo Sta pesa la tenda Si è sentito Spider-Man Beh però ti dico la verità Io pure Va bene Non ho i vicini intorno Ce l'ho solamente sotto Però già ma non mi hanno mai Rotti i coglioni Cioè Porco di Dio Porco di Dio Che ho fatto fare Come cazzo mi pare Non mi hanno mai detto niente Capito Quindi Dipende anche da che tipo Di persone Magari Li trovi e come sono fatte le case Troppo grande questo No ma poi da vedeci Passa alla porta È un macello eh No Allora Dammi Magari con il maestro Signori riesco a farcela Che sento che mi sta Guardando Che c'è una forza Che mi sta osservando Ti sto guardando Ti apro Capriola se vuoi Oh no Devi avere Devi avere il pantalone Bucato La capriola mia Ma tu A guadagli Cutta Petrus Giovane C'è un piano della casa Quindi grazie al cazzo Che è un po' più Che anzi che ci sta Un piano cottura Cioè guarda Perché se no Anche che ci sta Un piano cottura Già Marco È una casa C'è cazzo da cazzo Ma che cosa stai dicendo Ciao Gianluca Sono il tuo vicino di casa Potresti Ma io salgo Marzò Ah lui c'ha il due piani C'ha Allora il pavimento mi piace Peccato che domani C'è Tamblusium 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 Abbiate Abbiate Con l'eco No è troppo pesante Pesa veramente troppo Quel Quel cosa Poi Allora C'ho due Due Allora La situazione è la seguente Secondo me sono osservato Non è stato abbastanza Ma tu così papà Mi costringe a metterti Un bico nel culo No Sorry Today is my first day In my new home And so I'm Still understanding Some Of The stuff That's happening In my life And I wouldn't Have never used A Like that He wants to apologize Yeah I'm apologizing Yeah Keep up the good work Of course But we are gonna make A good team So pay attention To Stallions Galacticos Del Caribe Si va bene Allucinante Si fammelo sapere Il giorno e giorno prima Dopo che io ho versato Trentamila Franchi Non è Non è L'Etiopia andata via Non è Non è una cosa carina Comunque Con tutto rispetto Non è Non è proprio ben fatto So finito Con tutto rispetto Sei un po' Credemoci Dai Eleandro Giallo-Rosso In un momento di sofferenza Il contatto Ha detto Ma riconosciuto Con La bomba centrale Di parete Sto ragazzi La bomba centrale Di parete Ma è ovvio Non sbaglia Fa uno a zero Tutti quanti Finalmente Francesco Marzano Si è fatto Nuovi amici Vabbè Buono Ci sta Diciamo che comunque Il cooldown Dell'amicizia Sono 6-7 anni Era durato anche Un po' Troppo Va benissimo Fa piacerissimo Fa piacerire Evidentemente Ci sta Ci sta come cosa Assolutamente Allora C'ho un Un materasso Che potrai mettere Ma com'è l'audio? Pezzi di merda Siete inutili Sopra sopra E vai Accendi Vediamo Ma come? Eh la devi attaccare L'entri dentro Che cazzo è? Vai vai No No Ma ti accende da Cosa vuoi dire Ti accende da qua? Scusami Ma che cazzo Ma che cazzo Di luce è? Ma che cazzo Oh Giamma Giamma Spegnila Sembri Pia